Qualche settimana fa, dopo l'ennesima eliminazione anticipata dei Philadelphia 76ers, ho ripercorso tutto il viaggio che ha portato Philly dal Trust the Process al Fuck the Process. Tutto è inizio nel 2013, con l'arrivo di Sam Inkey e la scelta di Michael Carter Williams. Bene, in tutti questi anni ci siamo focalizzati sul Process sbagliato perché il 2013 segna anche l'inizio del Process per quanto riguarda gli attuali Boston Celtics. Ripercorriamo le tappe che hanno portato i Celtics ad essere quello che sono diventati. Sigla! Come per i 76ers, anche il processo di rebuilding dei Boston Celtics ha inizio nel 2013, quando l'allora General Manager Danny Ainge fiuta che l'epoca Doc Rivers, Allen, Pierce e Garnett è finita, e impacchetta tutto quanto per mandarlo ai Brooklyn Nets di un pazzo miliardario russo, Mikhail Prokhorov. Il russo, in barba alla luxury tax, si carica di vecchi decrepiti ma soprattutto si disfa di tutte le prime scelte, ma proprio tutte. La legacy di Doc Rivers ai Celtics termina con questa trade e i Celtics si affidano alle mani di un giovanissimo Brad Stevens, head coach dei Butler Bulldogs in NCAA che, nella stagione 2013-2014, con il solo Ray John Rondo rimasto a roster ma gravemente infortunato, a metà della stagione precedente un Kelly Olinic rookie, tra l'altro aperta e chiusa parentesi due scelte più in basso fu scelto Yannis, pensate un po', conclude la prima stagione con solo 25 vittorie. La prima volta dal 2007 che non agganciano la postseason, ma ragazzi sarà anche l'ultima volta almeno sino ad oggi. Sì, perché dal 2014 ad oggi Boston Celtics, a differenza dei Brooklyn Nets, che all'epoca vennero visti come vincitori in quella maxi-trade, viaggeranno sempre e comunque sulla cresta dell'onda e proprio con le scelte dei Nets faranno le proprie fortune. E mentre il process più seguito sceglie con la terza scelta assoluta del draft 2014, Joelone Embiid, con la 5, il process nascosto di Boston, sceglie Marcus Smart, un giocatore di cui abbiamo pesato la reale importanza solamente in queste ultimissime stagioni. Il primo mattoncino è pronto e dalla stagione 2014-15 si torna anche ai playoff, seppur con un record negativo di 40 vinte e 42 perse. Nel draft del 2015 arriva Terry Rozier ed in una Easter dominata dai Cleveland Cavs di LeBron e Kyrie Irving arrivano ad avere un record di 48 vinte e 34 perse, certificando la consacrazione di Brad Stevens come uno degli head coach giovani più promettenti del panorama NBA. Ma oltre a Stevens è la consacrazione anche di Isaiah Thomas, arrivato dai Phoenix Suns sulla trade deadline e risultato immediatamente il cuore pulsante e l'anima di questa nuova e giovane squadra. A partire dal 2016 i Celtics cominciano a usufruire delle prime scelte dei Nets, che nel frattempo sono caduti in disgrazia. Scelte altissime nonostante il loro ottimo record. Ad inizio stagione arriva Al Horford dagli Atlanta Hawks e, con Crowder, Evry Bradley e la crescita di Smarto, Linich e Rozier, giocano una stagione sensazionale. In aggiunta a questi nomi, con la terza scelta assoluta dei Nets, selezionano Jalen Brown e nella stagione 2016-17 è un assoluto trionfo. 53 vittorie e finale di conference, persa proprio contro i Cleveland Cavs. Danny Ainge capisce che la base è ottima, con tanti giovani pronti a spiccare il volo e tanti asset da utilizzare per arrivare a qualche superstar. E nell'estate del 2017 tenta di puntare al titolo, pur senza sacrificare l'ultima vera prima scelta rimasta dai vari scambi nel corso degli anni. Arriva Kyrie Irving da Cleveland in cambio sostanzialmente di Thomas e arriva Gordon Hayward, che Stevens aveva già allenato a Butler dagli Utah Jazz. Ma soprattutto, arriva il colpo di genio. I Celtics hanno la prima scelta assoluta del draft 2017 e proprio Filli, detentrice della scelta numero 3 nel nome del process, la vuole assolutamente per poter scegliere Markel Fultz alla prima assoluta ed evitare che lo facciano quindi i Lakers, che hanno invece la seconda. Le squadre si scambiano le scelte e Fila, che nel frattempo aveva già scelto Embiid e Simmons, ottiene la prima assoluta in cambio della terza e della futura prima scelta al draft 2018. Fultz a Filly, Lonzo ai Lakers e con la 3 i Celtics pescano. Jason Tatum. Un capolavoro. Dopo 5 minuti della prima partita, l'infortunio gravissimo di Hayward taglia le gambe ai Celtics. Ma non tutto il male viene per nuocere, perché è da questa stagione che Danny Ainge e soprattutto Brad Stevens si rendono conto che il core formato da Smart, Brown e Tatum può dare grandissime soddisfazioni. Anche perché, nonostante l'infortunio di Kyrie Irving, i tre giovanissimi di Boston danno del serissimo filo da torcere ai Cleveland Cavs di uno strepitoso Lebron, avendo anche il match point in finale di conference per poter approdare alle NBA Finals. Match point sepolto sotto i 46 punti di LBJ in gara 6 e ai 35, sempre di quello con la corona in testa in gara 7. La strada sembra spianata. Nel draft 2018 arriva Robert Time Lord Williams con la 27, nel draft 2019 Grand Williams con la 22, nel draft 2020 Peyton Pritchard ed Aaron Naismith. Nel mezzo il drama Irving che lascia Boston nel nome dell'anello facile in quel di Brooklyn in compagnia di Kevin Durant. Nel frattempo, però, i giovani sono maturati. Brad Stevens ha deciso che il suo percorso non sarà più in panchina ma dietro una scrivania e la scelta di Ime Udoca, Head Coach Scuola Spurs, sulle cui spalle pendono enormi aspettative, è quanto di meglio possa accadere. Oltre al talento arriva anche la mentalità di una ventennale dinastia. Stevens rinnova Brown, Smart Tatum, Time Lord e si accaparra a contratti a lungo termine come quelli di Tice e Derrick White, ed in più ripesca dal mazzo il vecchio Alorford che in questo sistema ci ha sempre sguazzato a meraviglia. Ed ora, a distanza di nove stagioni e senza praticamente mai tancare spudoratamente come invece Philadelphia nei primi anni di process ha fatto, i Celtics sono a mezzo passo dalle NBA Finals con una squadra giovane che ha avuto modo di crescere insieme negli ultimi 4-5 anni e con un coach ed una cultura vincente oltre al proverbiale e mai morto Celtics Pride. Eccovi il vero process, altro che...